Lei pensa di poter un giorno candidarsi come segretario del PD? Io penso che adesso parlare del congresso sia da marziani davvero. Perché io quando... Lei ha detto mi voglio occupare dei problemi dell'Italia, non solo dell'Emilia Romagna, quindi per questo l'ho pensato. Lei sa che io giro molto. Oggi si può meno, ma lei sa che io sono un buoco in ufficio e molto tra la gente. Io non ne trovo uno che mi chiede in questi giorni al telefono, anche di persona, quando sarà il congresso del PD. Io trovo che mi chiede, ma mio figlio potrà tornare a scuola in presenza sempre? Il mio lavoro sarà garantito? La mia impresa, che oggi il mio ristorante è chiuso, potrà riaprire? Prendo atto del fatto che... Il congresso del PD sarebbe davvero marziano. In futuro cosa accadrà? Non lo so. Non mi ha risposto no, comunque. Non ho risposto no, perché non so cosa accadrà. Allora, lei rimane con noi.